Buon pomeriggio a tutti, è venerdì 3 febbraio, sono le 18.01 e ci prepariamo a una bella anteprima di quella che potrebbe essere l'analisi sulle crypto che arriverà o stasera se riuscirò a trovare il tempo oppure domani mattina. Partiamo dalle cose più importanti, la spike con candela rossa è arrivata, adesso stiamo disegnando una bella doji che non significa veramente nulla anche se abbiamo avuto una rottura verso il basso delle medie mobili e della precedente candela spike rossa. Il discorso è che non stiamo mollando le medie mobili come vi dicevo, peraltro a furia di spaccarci tutti insieme nel gruppo premium la testa sull'inverso se ne trovano altre di possibilità e a un certo punto a furia di essere abbastanza stufo di trovare altre possibilità ma non vi dirò per adesso perché questa è l'anteprima quella è la più corretta perché ciò dovrei esserci arrivato, vi dirò che se come al solito devo cercare di semplificare al massimo le cose per capire che cosa sta succedendo perché se il metodo è statistico e matematico devo ragionare sui numeri e quindi devo anche capire cosa può succedere mi rendo conto che la situazione tra bitcoin e ethereum per esempio è estremamente differente innanzitutto qui non abbiamo avuto nessun bisettimanale sotto un massimo non sotto questo, non sotto questo, assolutamente non sotto questo per cui non è partito, non è iniziato nessun trimestrale inverso da nessuna parte niente, non c'è stiamo ancora terminando questo trimestrale e questo semestrale a furia di trovare possibilità alcune che funzionano bene altre che funzionano meno bene e altre che in realtà forse non funzionano anzi, togliamo il forse, altre che non funzionano e a furia di ragionare tutti insieme nel gruppo questa è la cosa più bella veramente, vedere che anche se uno è affaticato per il tanto lavoro ci sono persone che stanno guardando il grafico come lo guardo io e danno dei pareri che non sono opinioni ma sono riscontri che si possono fare con la matematica su quella che è la composizione dei t inversi di questo movimento per farla breve però come vi dicevo noi sappiamo che al massimo un t più 2 inverso ovvero un mensile inverso può durare 43 giorni giusto? sappiamo che al massimo un raccordo tra un t più 4 inverso e un t più 4 inverso può durare 21 giorni perché un t più 1 inverso che è l'unico raccordo che possiamo trovare tra i t più 4 inversi ovvero i semestrali inversi e dura 21 barre 21 giorni 21 candele come preferite per cui se sommo 43 a 21 ottengo 64 giusto? ovvero so che qualsiasi sia la centratura di inverso perché anche quella di indice si presta a tante possibilità tutte matematiche tutte corrette e noi non vediamo la parte destra quindi dobbiamo ragionare proprio di matematica proprio di condizioni necessarie sufficienti per la partenza e per la chiusura e tutto questo genere di cose e noi sappiamo come appena finito a dire che se sommo 43 a 21 ottengo 64 e che quindi noi potremmo provare a cercare di salire ancora fino a 16,2 quando ho ragionato in questo modo ho detto no scusate un secondo io ho ragionato di questa cosa qua perché abbiamo rivisto tutto eccetera eccetera vi dico ipoteticamente potremmo ragionare di 64 barre il discorso qual è il discorso è che con una forte tendenza volumetrica le condizioni necessarie sufficienti per fare partire i settimanali inversi t inversi scendono sotto le durate minime normali lo si può vedere su qualsiasi grafico su esempio P500 su MIB su DAX è una regola di quelle che sto riscrivendo per bene perché è una regola della vecchia ciclica vi ricordate nei tanti video passati che vi racconto sempre che quando la tendenza volumetrica o parte da una parte o dall'altra si scende sotto i tempi canonici per questo motivo diventa più difficile l'interpretazione del movimento specie se a seguito di un movimento rapido poi si va a lateralizzare facendo tanti massimi e tanti minimi tutti nella stessa zona ovvero confondendo per bene le acque ovvero andando in lateralità dopo che c'è stato un movimento di spinta e mandando spesso in vacca una quantità di trade anche quotidiani che non si riescono più a fare perché con un trading range così piccolo adesso qui sembra grande perché l'ho aggiustato ma con un trading range così piccolo e qui ragazzi adesso ve lo faccio vedere un po' meglio il trading range piccolo eccolo qua con un trading range che ha delle candele che fanno ridere rispetto alle precedenti precedenti erano un attimo più ampie queste sono microscopiche come dico da tempo è estremamente più complesso analizzare cicli peraltro grossi che possono avere differenti sottocicli ovvero mi spiego ancora meglio un semestrale inverso può essere composto in qualsiasi modo ovvero da due t più 3 inversi due trimestrali inversi oppure da un trimestrale inverso e un mensile inverso poi però ci deve essere la condizione necessaria sufficiente perché parta un nuovo semestrale eccetera eccetera ma il tempo puro che è l'unico che ormai distingue la vecchia ciclica dall'evoluta e l'evoluta funziona e la vecchia ciclica non funziona più anche per il discorso di quello che fanno i mercati quindi bisogna ricorrere al tempo puro e ci dice che come è successo per la famosa analisi con cui spero di aver tutelato anzi ho avuto riscontro di aver tutelato tantissimi odler che mi hanno ringraziato nel tempo e qui come vedete l'annuale inverso questo qua non è stato composto da un semestrale più un semestrale inverso o da un che cosa hanno fatto? hanno fatto trimestrale inverso secondo trimestrale inverso terzo trimestrale inverso ma fatto in maniera subdola un po' come è successo su MIB lato indice il trimestrale precedente non l'hanno fatto con due mensili ma l'hanno fatto con un mensile inverso lungo 39 barre un raccordo di grado che cosa? grado T-1 che si mette dove? il tempo ce lo dice no? un T-1 sarà tra due T più 2 inversi primo T più 2 inverso con raccordo il secondo non l'ha completato perché non l'ha completato? perché gli è bastato fare un T più 1 inverso per andarlo a chiudere ed è una di quelle cose che vanno normate adesso devo scriverle perché se no ci sono volte che mi dimentico di quello che è stato fatto e non succede spesso anzi questo succede abbastanza raramente adesso l'abbiamo visto lato indice non lato inverso su Mib che è il mercato che sta anticipando tutti gli altri il nostro mercato l'italiano è quello che ci dice cosa stanno per fare tutti gli altri è una roba mai vista prima tra l'altro il bello è che l'ho voluta dato che notiamo tutto continua ad aggiornarsi in continuazione è quello il bello qualsiasi cosa vari l'annoto l'annoterò e ne prenderò e ne prendo atto qui non c'è un secondo T più 2 completo inverso c'è un T più 1 inverso con un raccordo che sta tra un T più 2 inverso ma non segue un T più 2 inverso per completare l'annuale inverso questo rischia scusate in realtà l'annuale inverso è questo questo rischia di generare dei problemi e non in genera solo se quando abbiamo un primo movimento violiamo degli swing importanti ci permette di capire se è una finta a ribasso oppure se si continua a scendere come ho raccontato a tutti quelli che hanno risparmiato tanti soldi perché si questa parte l'ho sbagliata ok bastava un attimo per chiudere l'annuale e questa parte l'ho sbagliata quando ho capito cosa stava succedendo però ho dato i target di dove si poteva arrivare e li abbiamo presi tutti e poi sono andati non in eccesso in stra eccesso perché se devo andare a guardare 43 più 21 per capire a che punto siamo arrivati ecco sono cose rare tutto il resto del movimento è stato tutto preso a volte non mi aspettavo decerminati accessi ok va bene ma intanto altri metodi che potevano essere più blasonati un tempo hanno fatto figure che metà basta perché non siamo mai arrivati a Natale a 95.000 dollari anzi siamo scesi come diceva l'evoluta metodo meno noto di altri però molto più efficace per questo motivo dato che su tutti i mercati abbiamo una situazione estremamente particolare ve lo faccio vedere sempre perché mi piacciono i fatti anche qui come vi dicevo non abbiamo avuto abbiamo avuto il tempo di un mensile 48 barre ma non abbiamo avuto un due mensili completi perché perché da qui qua non si poteva essere chiuso nulla a 16 barre qua ok la centratura che ci dà più corretta è questa 34 e poi abbiamo soltanto un t più 1 con un successivo ciclo che bastava che tornasse qui sotto ovvero che facesse dai 23 645 ai 23 353 niente viste le candele che stava facendo prima una candela uguale a questa ma rossa chiudeva bene un mensile e noi andavamo dopo a salire prima discesa e poi salivamo per cui ebbene in tempi meno semplici da leggere del solito guardare tutte le centrature plausibili che ci sono attenzione come già detto vi faccio vedere una differenza ecco perché vi parlo di plausibili guardate ethereum ok ho letto tante domande eh ma abbiamo fatto un'altra salita qua sì perfetto anche in questo caso ci prendiamo il tempo a cui siamo arrivati siamo arrivati a 52 barre di un mensile ma come 52 un mensile è un 2,43 quindi siamo in over siamo oltre di 9 barre per adesso quindi anche qui è possibile che come su su bitcoin ci saranno raccoglie raccordo raccordo normato nelle regole a partire da Hurst ok tra l'altro da quando Hurst ha parlato della sua ciclica delle sue onde il mercato è cambiato tantissimo è stato sconvolto dagli HFT quello che adesso qualcuno chiama smart money ma sono gli HFT quello che qualcuno confonde con altre cose di Wyckoff ma sono gli HFT non sono gruppi di persone che si riuniscono per muovere le cripto sono due cose completamente differenti bisognerebbe ogni tanto andare a controllare quello che raccontano le persone per capire se la sanno e bisognerebbe tornare forse anche a studiare sui libri non apprendere soltanto per buone determinate cose l'autorevolezza della fonte rimane fondamentale da quando me l'hanno insegnata che facevo il liceo sono passati degli annetti però adesso ancora di più con tanta gente che si improvvisa a fare cose che prima non faceva che non ha alcuna storicità di quello che fa che non ha video precedenti se non di qualche mese o di qualche anno la faccenda diventa tosta ma intanto come di consueto come vi dico il mondo è perfetto così com'è in ogni momento ovvero un truffatore non può continuare a truffare la gente all'infinito a un certo punto salterà fuori qualcosa oppure ci sarà talmente tanta gente insoddisfatta di quello che fa che finirà il giochino ok per questo motivo non me la prendo più come facevo un tempo con determinate categorie ma avviso i fuffaguru ci sono chi vi promette guadagni facili c'è fate attenzione iniziere a studiare per evitare di cascare in qualche cosa di non bello ok su ethereum rispetto a bitcoin qui abbiamo una cosa abbiamo questo ma qui mi fermo su ethereum ok abbiamo questo questo non c'è su bitcoin eccolo qua qua abbiamo massimi sempre crescenti non ce n'è stato uno decrescente rispetto al precedente mentre invece su ethereum si si tanti in discesa poi si è tornati a salire quindi c'è stato prima discesa poi salita prima massimi decrescenti poi massimi crescenti non è una differenza da poco sono cose che bisogna guardare in continuazione per questo motivo bisogna comprendere se prendiamo da questo massimo bitcoin può avere chiuso qua alla 42esima barra sul massimo 43 su questo massimo qua ci sono le condizioni di chiusura ci sono le condizioni intermedie per la partenza dei settimanali e del bisettimanale inverso questa è la domanda con cui vi lascio perché se ci fosse tutto ok da questo massimo segnalato con la freccia potrebbe partire un raccordo di grado t inverso già fatto e quindi si potrebbe iniziare a scendere finalmente oppure farne uno di grado t più 1 inverso che arriva al massimo a 21 giorni e ritorniamo a se qui ha chiuso il primo a 7 e ne mancano ancora almeno 4 1 2 3 4 13 barre che cascano il 7 di febbraio tra 4 giorni chi è che ha voglia di andare a controllare se è corretto quello che dico anzi cosa è corretto di questa parte qua qui può essere terminato il mensile inverso e da qui può essere partito un raccordo di grado t inverso o t più inverso perché grazie a quello potremo capire tante cose e se guardate anche queste frecce e fate una riflessione sul lato indice arriverete poi passerete da quest'anteprima all'analisi definitiva che farò o questa sera se ce la faccio oppure domani vi ringrazio per il vostro tempo ringrazio tantissimo le persone del gruppo premium che sono felice di ascoltare quelle che fanno domande tecniche propongono soluzioni invece che chiedere dove siamo nella centratura perché significa che ci si impegna a fronte di un impegno che si vede costante da parte mia e quindi fino a quando c'è reciprocità le cose possono andare bene se ci sono soltanto pretese da una parte purtroppo il legame si spezza questo è normale in qualsiasi tipo di legame in qualsiasi tipo di rapporto di lavoro non ho finito di raccontarvi dell'acqua calda ricordiamoci che siamo qui ok buona serata a tutti vado a riposare un po' arrivederci grazie